salve a tutti ragazzi qui che vi parla ed è adri ed è benvenuti a questo nuovo video come potete benissimo vedere non sono sul mio canale ma sono sul tgg network nuova community di cui probabilmente avrete sentito parlare soprattutto se fate parte del nostro gruppo di facebook the gamers allora ragazzi oggi non parliamo di giochi parliamo diciamo cercherò di illustrarvi le modalità con le quali grazie alle quali potrete in seguito postare i vostri video commentati da voi potrete postarli appunto sul the gamers network ma soprattutto quali requisiti dovranno avere piccolo scendo sul sullo sfondo un pochino particolare è molto probabilmente il 100 per cento se non il 99 per cento di voi non avranno mai visto questo gioco beh questo gioco si chiama rock of ages è un gioco strategico che potete trovare su stima circa 5 euro se non mi sbaglio e tanto per cambiare ho deciso appunto di mettere questo questo gioco appunto strategico in cui attraverserete mezza europa combattendo nemici e di varie appunto età in questo caso dei medici come avete visto all'inizio comunque ragazzi vanno le ciance allora primo parliamo intanto di requisiti ragazzi per poter postare i vostri video nel nostro canale dovrete innanzitutto essere sia iscritti al canale ma soprattutto iscritti al nostro gruppo di facebook questo è il link in alto a sinistra si chiama the gamers group amministrato da poco anche da me ma soprattutto da giorgio coppola alias mister titan e luca luca viva che appunto avete visto nel video di presentazione quello precedente a questo appunto allora ragazzi quindi questi sono i primi due requisiti terzo requisito qualità audio e video abbastanza alta beh audio ragazzi il minimo indispensabile per cui diciamo la vostra voce sia comprensibile anche i suoni e soprattutto fate in modo di bilanciare appunto questo per cui la voce non dovrebbe essere coperta dai suoni del gioco comunque o da altri suoni esterni e strani poi ragazzi qualità video probabilmente puntiamo soprattutto su quella video al minimo in 720p quindi in hd e ragazzi molto spesso anche io quando renderizzo video a 720p poi mi viene qualcosa che sarebbe equiparabile a 240p quindi devo essere 720p veri ad un hd appunto vero ragazzi potete commentare i vostri video potete commentarli benissimo voi oppure fornici soltanto il gameplay magari noi faremo il nostro commentary e poi diremo che diciamo il il gameplay è stato appunto vostro comunque potete anche commentare il vostro il vostro diciamo video qualsiasi gioco ragazzi può essere qualsiasi gioco anzi più diciamo inusuali o comunque meno visti sono meglio è perché appunto stiamo cercando di avere più varietà possibile su questo canale allora ragazzi detto questo sì perfetto per i vlog credo molto probabilmente che la qualità video possa anche essere minore l'importante è quell'audio certo se si parla di vlog poi ragazzi e ancora non abbiamo detto la cosa principale allora ragazzi quando voi vi iscriverete al the gamers group o se lo siete già diciamo se siete già iscritti su facebook a questo gruppo per poter uploadare un video su questo canale dovrete innanzitutto rivolgervi a uno degli amministratori che sia io che sia luca viva oppure giorgio coppola mario schiavo riccardo elena e tanti altri adesso non me li ricordo tutti comunque dovrete chiedere esplicitamente a uno di questi cioè dovrete chiedere dovete appunto dire che avete un video pronto per questo canale così facendo dovrete innanzitutto diciamo dirci di che cosa si tratta e in un secondo momento dovrete uploadare soltanto naturalmente dopo la nostra richiesta dovrete uploadare questo video su youtube però non deve essere un video pubblico o privato ma non elencato così che soltanto chi ha il link possa guardarlo noi diciamo visto il video decideremo se ci saranno se ci sarà bisogno diciamo di qualche modifica o comunque di qualche aggiungimento di qualche definizione oppure se già pronto così come ecco in quel momento ci darete noi diciamo prenderemo appunto il video e lo caricheremo sul tubo per cui ragazzi e mi sembra di essere stato abbastanza chiaro per qualsiasi tipo di domanda un commentino qui sotto possibilmente di risposta a quello che metterò io ragazzi che dirvi vi lascio alla distruzione della fortezza di de medici con quel bel faccino in basso a destra con quegli occhi tipo da pesce palla ragazzi appunto vi lascio al gameplay è un saluto al prossimo video ciao ragazzi ciao 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 ciao